Il presidente dell'Associazione Produttori Torrone di Caltanissetta, Davide Scancarello, insieme al vicepresidente Gianfranco Nitro, ha incontrato il sindaco Walter Tesauro e una delegazione comunale. Durante l'incontro l'associazione ha presentato le proprie iniziative per promuovere Caltanissetta attraverso la sua tradizione dolciaria. Il processo per il riconoscimento IGP del Torrone di Caltanissetta è attualmente in fase di valutazione dal Ministero dell'Agricoltura dopo aver ricevuto un parere positivo dall'assessorato regionale. Il sindaco Tesauro ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per l'identità cittadina e la crescita sociale e culturale della città.